A Bagnolo fa discutere la situazione della stazione ferroviaria in centro al paese, danneggiata gravemente da un incendio alcuni mesi fa e ancora in stato di degrado. Lo segnala il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, che parla di situazione vergognosa intervenendo nell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. La Piccinini segnala come a più di nove mesi dall'incendio che ne ha danneggiato il tetto, non solo nulla è stato fatto per il suo ripristino, ma anche gli altri servizi della stazione risultano abbandonati tra rifiuti, sporcizia e degrado. Il capogruppo pentastellato ha invitato la regione a pretendere da Tiper e Fer un impegno per il miglioramento dell'intera linea che va da Reggio a Guastalla. Parla di una situazione di estremo disagio per i pendolari che quotidianamente utilizzano quella linea, anche per l'uso di convogli vecchi dei decenni, fra passaggi livello che non garantirebbero i limiti minimi di sicurezza e la soppressione di corse e treni sempre troppo frequente. A tal proposito il Movimento 5 Stelle ha proposto un emendamento specifico per chiedere che la regione si faccia carico di questo problema.